Tutta colpa del proporzionale, è bastato che alleggiasse lo spettro di un ritorno al vecchio sistema elettorale da Prima Repubblica per riportare sulla scena i protagonisti del tempo che fu, a partire dalla vecchia democrazia cristiana. Nei giorni in cui l'accordo sembrava chiuso, Ciriaco De Mita, 89 anni, ha lanciato un appello, un richiamo allo scudo crociato indirizzato ai tanti centristi rimasti in Parlamento. Poi però l'intesa sul proporzionale è saltata, ma la riflessione di Ciriaco De Mita continua. Ora i popolari sono a un bivio e il padre nobile della DC vuole recuperare la comune radice politica e culturale, si legge in una nota. L'appuntamento è a Palazzo Santa Chiara, a Roma, domani con Angelino Alfano, Giampiero D'Alia, Lorenzo Dellai, Giuseppe De Mita e Marco Follini. Quella di Roma, in linea con quella di Napoli nelle settimane scorse, è un'iniziativa assunta personalmente da Ciriaco De Mita, si sottolinea nella nota, con l'obiettivo di mettere insieme quanti avvertono la necessità che è innanzitutto di recupero di un pensiero politico. C'è qualcosa di nuovo oggi, anzi d'antico, direbbe qualcuno. Davanti ai limiti del presente emerge la forza dell'usato sicuro. Il quarto polo di De Mita fa pandan con il nuovo centrosinistra di Pisapia, che in piazza Santi Apostoli, dove ebbe inizio l'ulivo venti anni fa, ha radunato quello che resta di una sinistra atomizzata e delusa. Vicino al palco, oltre a Tabacci, D'Alema e Civati, si è rivisto anche Antonio Bassolino, che lo strappo lo sta preparando da molto tempo, ma ancora non ha deciso. Un lungo avvicinamento a Pisapia e un lungo addio al PD. L'ex sindaco di Napoli ribadisce di essere ancora un iscritto al Partito Democratico, dice di voler cercare il dialogo con le altre forze di sinistra e ammonisce. L'ulivo è stata una bellissima esperienza, ma adesso dobbiamo avere lo sguardo rivolto avanti. Con Bassolino a Roma c'era anche tanto sud e tanta passione, ha detto l'europarlamentare Massimo Paolucci. Con lui anche Arturo Scotto ed Elisabetta Gambardella. Una compagnia destinata a crescere, anche in Campania, se ne riparlerà quando sarà più chiaro anche che fine farà la riforma elettorale. Grazie. Grazie. Grazie.